Funi via traspese foglie e fretta sospetta. Inizia così il comunicato stampa del Comitato Un altro appennino è possibile, contrario alla costruzione dell'impianto a fune che dovrebbe collegare la doganaccia al corno alle scale. In due mesi, si legge ancora nella nota, sono stati spesi 265 mila euro di denaro pubblico quando le strade sono una buca continua, il trasporto pubblico è stato tagliato, l'erba invade le strade e i consigli comunali sono tenuti fuori da ogni decisione. Il Comitato Antifuni via evidenzia come fra giugno e luglio scorsi la provincia di Pistoia ha accelerato i tempi con forte spesa di denaro pubblico. Si tratta di cinque determine adottate in poche settimane da funzionari dell'ente provinciale, la prima 6.500 euro per uno studio acustico con supporto giuridico, la seconda 71 mila euro per uno studio ambientale, la terza 175 mila euro per revisionare un precedente studio di fattibilità, la quarta per convocare in pochissimi giorni la conferenza dei servizi e la quinta, quasi 12 mila euro, per un incarico legale di assistenza stragiudiziale a supporto della procedura di approvazione del progetto e della gara. È purtroppo evidente, si legge ancora nel comunicato, che la provincia di Pistoia, per compiacere su questo progetto il decisore regionale, è molto attiva. Purtroppo lo è assai meno su tanti altri aspetti che interessano assai più l'intero territorio della montagna e la vita quotidiana dei suoi abitanti.